Ci sono sei priorità per la Commissione von der Leyen e i temi trattati saranno soprattutto quelli legati intanto alle due crisi recenti di questi ultimi anni, cioè l'uscita dalla pandemia e ovviamente la guerra in Ucraina e quindi vedere che cosa si sta facendo, cosa si può fare per aiutare il popolo ucraino e per porre fine a questa guerra. E poi naturalmente ci sono le priorità più di lungo periodo, a partire dal clima, la lotta ai cambiamenti climatici, il Green Deal europeo con tutte le questioni legate alla mobilità, legate all'energia e legate all'economia circolare, la digitalizzazione che è un'altra grande sfida per i prossimi anni e vorrei ricordare anche il 2023 anno europeo delle competenze. L'Unione Europea vuole dedicare quest'anno alle competenze, cioè alle conoscenze che giovani e adulti devono sviluppare per poter essere cittadini a pieno titolo e lavoratori a pieno titolo nella società che sta cambiando. Molto importante questo percorso perché permette ai cittadini dell'Emilia Romagna di entrare nei processi decisionali europei, è una buona prassi, è un'esperienza molto interessante perché non succede la stessa cosa in tutta Europa e neanche in tutta Italia, quindi è un esperimento di partecipazione dei cittadini e dei loro rappresentanti regionali nel processo di dibattito, di discussione e di preparazione della legislazione europea.